Questo... è... un computer! Disegnato per essere installato sul tuo telescopio permettendo di controllare remontamente qualsiasi dispositivi per l'astrofotografia su wifi o anche via internet Questo computer distribui 12V di potenza direttamente ai vostri dispositivi di astrofotografia riducendo l'amount di cable e permettendo di spendere più tempo immaginando e meno tempo preoccupando sull'installazione Questo è un computer potente che funziona Windows come desktop o laptop PC quindi sei gratuito ad installare e usare qualsiasi dispositivi e dispositivi che preferisci per l'astrofotografia Questo computer connessa con gli satelliti GPS in orbita rendendo i dati più precisi di tempo e di location che sono disponibili per voi e il vostro sistema Questo computer mesura la scuola del cielo quindi saprai sempre cosa sta succedendo anche sui giorni e freddi Questo computer non emita nessuna luce nella scuola quindi non interferirà con i vostri datacaptori o i vostri amici a crowded star parties Benvenuti al nuovo Eagle molto più che un computer Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti